Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, intervento di precettazione sullo sciopero nazionale del trasporto pubblico in programma per domani. Protesta ridotta da 24 a 4 ore. Saranno possibili disagi sulle linee di Atac, Roma TPL e Cotral dalle 9 alle 13. La protesta interessa anche Roma Servizi per la mobilità con possibili interruzioni sulle attività al pubblico, in particolare quelle dello sportello Permessi e del contact center 0657 003. Sempre domani nel pomeriggio a partire dalle ore 17 previsto un corteo partirà da Piazzale Aldomoro alla Sapienza e raggiungerà Porta Pia.